Sapete? C'è una cosa che è pericolosissima di qualunque argomento stia parlando, quelli che parlano senza sapere niente. Per esempio, una cosa folle era il fatto che c'è stata Turismo Audorno a Fiera di Parma, quella che ha avuto due visitatori. Bene, quando era stata lanciata c'era chi diceva, ah, adesso con questa fiera qui muoiono tutte le fiere regionali. Allora, abbiamo visto che non è così. Ma basta capirne qualcosa per stare zitti, perché è inutile parlare qua, 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 quando non si sa nulla. Allora, da che mondo è mondo? Quando c'è una fiera di primavera che funziona alla grande, le altre fioriscono, le altre crescono. Ok? Quindi questo è chiaro e lo abbiamo anche visto, ma non c'era bisogno di vederlo, perché in tutto il mondo è così. Ce ne sono 23 importantissime in tre continenti e in tutti i casi è così. Ma lo abbiamo visto esattamente cosa è successo con la fiera di Padova? Cosa è successo con la fiera di Ferrara? Cosa non è successo con la fiera di Carrara? Perché, uddio, uddio, c'è la fiera a Parma e l'hanno spostata. Malissimo. Adesso c'è la fiera di Novegro. I dati ci dicono che c'è un interesse che è incredibile per la fiera di Novegro. 2, 3, 4 marzo. Ottimo, ottimo. Questo sapete cosa significa? Significa che chi va vince. Gli espositori presenti vincono e gli altri perdono. L'abbiamo sempre detto, no? Il mondo non è per tutti. C'è chi vince, c'è chi perde. Ci sono i vincenti, ci sono i perdenti. Ah no, e poi ci sono quelli che parlano senza sapere.